Ha cancellato il post col quale annunciava di volerla fare finita dicendo di essere crollato, dando mandato al fratello di continuare la sua battaglia giudiziaria. Pasquale Aliberti è stato dimesso in mattinata dall'ospedale di Nocera Inferiore dopo aver tentato il suicidio con un'overdose di farmaci. Salvato dai suoi familiari era sotto osservazione dopo essere stato sottoposto a trattamenti per la disintossicazione. Intanto il deafter è pieno di commenti di solidarietà e vicinanza all'ex fascia tricolore di Scafati, imputata nel processo Sarastra per il presunto scambio elettorale politico-mafioso. Dopo il carcere l'obbligo di dimora fuori regione e i domiciliari Aliberti per ora non può tornare nella città dell'agro della quale è stato sindaco e con il consiglio comunale sciolto per infiltrazioni camorristiche. Pasquale Aliberti è crollato dopo l'udienza di ieri nella quale il suo legale, Silverio Sica, è stato protagonista di un duro scontro con il pubblico ministero della DDA Vincenzo Montemurro. L'avvocato si è detto anche pronto a lasciare l'incarico di difensore dell'ex primo cittadino. Sono innocente e mi distruggono da 400 giorni, vengo dipinto come un camorrista e non mi permettono nemmeno di esercitare la professione di medico. Uno dei passaggi social di Aliberti che si è detto devastato dalla vicenda processuale che lo vede coinvolto insieme alla moglie Monica Paolino e ai presunti esponenti del clano all'oreto ridosso per lo scambio elettorale politico mafioso al comune di Scafati e nelle tornate elettorali successive.